Anche io. E altrimenti c'è un codice QR. Questo perché l'idea è che la presentazione possa essere un po' interattiva, quindi ci saranno alcune domande con una risposta giusta e delle risposte sbagliate e alla fine ci sarà un vincitore di queste domande. E tolto questo, il grosso della presentazione dal momento che l'esperienza di comunicare il clima è anche questione di guardare a quelli che sono casi studio, degli esempi pratici, quindi dare le proprie opinioni e condividere un po' i nostri punti di vista. Ci sarà tutta una parte in cui, facendo parte proprio della presentazione, sarete in grado di scrivere quelle che secondo voi sono le metodologie più corrette per comunicare il cambiamento climatico. Quindi, seguendo il link che avete oppure collegandovi attraverso il codice QR, potete entrare a far parte della presentazione. Vedo che ci sono già 23 persone, come potete vedere qui. Quindi, mano a mano che andiamo nella presentazione, vi sarà possibile anche porre delle domande. Le domande le potete fare o attraverso Zoom, perché abbiamo una sezione di domande e risposte apposite, o attraverso l'app, se lo trovate più comodo. In ogni caso ci saranno delle parti all'interno della presentazione in cui ci fermeremo, parleremo un po', leggeremo le vostre domande e cercheremo di darvi una risposta. Nel caso in cui non siamo in grado di dare una risposta istantanea, in ogni caso vi garantiamo che manderemo a Pasquale, una volta che cerchiamo magari più informazioni sulla risposta, tutte le informazioni che vi servono, in modo che poi possiamo mantenere questo canale di dialogo aperto. Detto questo, adesso possiamo cominciare a vedere di che cosa ci occuperemo oggi, e cioè l'esperienza di due gradi rispetto alla comunicazione climatica. Prima di partire, vorrei farvi una prima domanda importante. Adesso vedrete che l'app vi chiederà di mettere il vostro nome, il nome di... Li chiama giocatori ovviamente, però è semplicemente per poter partecipare attivamente e dare una risposta alle domande, e poi ci sarà un breve quiz su quello che secondo voi significa due gradi e il giorno e l'anno piuttosto in cui siamo nati. Potete mettere un qualsiasi nome, può anche essere A-A-A, non vi preoccupate, insomma non è che debà. Non ci sono dei premi, quindi... No, purtroppo non ci sono dei premi, a parte ovviamente il nostro eterno apprezzamento per la vostra eventuale conoscenza di due gradi, ecco. Adesso dieci secondi e partiamo. Non ci abbiamo pensato, avremmo potuto mettere come premio una membership per due gradi? Avremmo, avremmo potuto. Vabbè, si può sempre mettere, insomma. Sì, sì, possiamo metterla in palio, effettivamente. Allora, abbiamo 38 persone, quindi credo che possiamo cominciare, in ogni caso vi potete unire in qualsiasi momento. Allora, a domanda esatta corrisponde ovviamente un maggior numero di punti. La prima domanda è che cosa significa due gradi? Da dove viene il nostro nome? È l'angolo di ingresso dei raggi solari in atmosfera? È l'aumento della temperatura da mantenere a livello globale? È il cambiamento di temperatura globale dal 1800 a oggi? O è la temperatura media a Parigi in pieno inverno? C'è una sola risposta esatta. C'è una sola risposta esatta. Allora, la maggior parte di voi ha risposto che è il cambiamento di temperatura globale dal 1800 ad oggi. Questo è parzialmente corretto, ma non completamente corretto. Allora, il nome due gradi viene dal fatto che qualche anno fa, quando si parlava di quelli che erano i limiti planetari rispetto al cambiamento climatico da mantenere, l'obiettivo era di mantenere l'innalzamento della temperatura globale entro il 2100 a un massimo di due gradi, consapevoli che dopo i due gradi sostanzialmente i cambiamenti sarebbero, saranno così significativi da causare sostanzialmente una quantità enorme di rischi, per cui due gradi è la soglia psicologica, oltre cui cerchiamo di non voler arrivare. Il cambiamento di temperatura globale dal 1800 ad oggi invece è piuttosto nell'ordine del grado, o del grado e mezzo ormai. Quindi questa è la prima domanda. La seconda domanda è rispetto all'anno in cui siamo nati. Come suggerimento è lo stesso anno in cui Greta Thunberg ha cominciato gli scioperi per il clima. Quindi se avete un po' di contesto climatico potete forse provare a indovinare. In generale comunque questo è anche per farvi capire come sarà la presentazione, nel senso che sarà comodo ovviamente avere il cellulare sotto, rimanere con la finestra aperta in modo che possiate contribuire quando volete, anche con i like, i cuori, quello che volete, alla presentazione. Grazie. Grazie. Allora, la maggior parte di voi ha risposto correttamente, effettivamente. Greta Thunberg ha cominciato gli scioperi all'incirca, se non erro, nell'estate del 2018. Noi siamo nati come due gradi alla fine del 2018, cioè nel dicembre del 2018. I fondatori sono i set che vedete qui. e l'idea era di portare il cambiamento climatico in Italia in maniera coerente con un progetto che si occupasse solamente di questo. Questo perché? Perché nel 2018 di clima si parlava ancora molto molto poco, in maniera disunita, non organica, e soprattutto molto spesso quando si parlava di clima si parlava ancora in un certo senso con un'enorme quantità di tecnicismi. e quindi l'idea era di portare il clima terra-terra. Tra l'altro, se siete abituati a sentire terra-terra, forse lo associate anche a una connotazione negativa. E noi abbiamo proprio voluto prendere questa connotazione negativa per spiegare che se qualche cosa non si capisce, non è tanto perché è troppo complicata o qualcosa del genere, ma è perché non è stata spiegata abbastanza bene. In due gradi crediamo che sostanzialmente sia sempre possibile spiegare anche concetti complessi, magari in varie tranche, e per questo ci occupiamo di comunicazione e divulgazione del cambiamento climatico su tutte le piattaforme, diciamo, possibili a cui riusciamo ad arrivare. Quindi al momento il team è rappresentato dalle persone che vedete qui, c'è anche costanza nel team social, e rispetto alla comunicazione del clima abbiamo due fonti principali, in un certo senso, due piattaforme principali di comunicazione. La prima è il sito in cui abbiamo pubblicato oramai più di 200 articoli, e le altre sono i nostri canali social. Su Instagram ci avviamo ai 10.000 like, su Facebook siamo su numeri un po' più bassi, abbiamo anche una newsletter, ma comunque cerchiamo di arrivare a pubblici differenti in base a quelle che sono le varie forme di comunicazione che vogliamo adottare. Adesso, prima di andare a quello che è il fulcro della trattazione di oggi, anche una domanda per voi, cioè che tipo di progetto avete in mente adesso all'interno del vostro lavoro, all'interno del progetto Mindchangers? Ora vi sblocco un attimo, scusatemi. Ok. In una parola potete descrivere quello che sarà il vostro progetto, o quella che è la vostra idea su come comunicare il cambiamento climatico ai giovani. Quindi vedo che ci saranno molti metodi partecipativi, molti progetti volti all'attivazione. L'attivazione, summer camp, formazione online, partecipazione dal vivo, partecipazione dal basso, partecipato, coinvolgere gruppi informali. Ok. Quindi sostanzialmente progetti che si rivolgono all'attivazione pratica delle persone per la maggior parte, il che fa di sicuro molto piacere, perché è uno dei, sostanzialmente uno dei messaggi che cercheremo di comunicare anche oggi, sul come comunicare in maniera efficace il cambiamento climatico. Quindi, ora possiamo passare a quello che è il fulcro della presentazione, che è la comunicazione del cambiamento climatico. In breve, qual è il mondo della comunicazione climatica oggi? Ho cercato di riassumerlo in maniera molto spiccia in tre punti fondamentali. Innanzitutto siamo passati da una situazione di silenzio, per cui fino al 2018 non è che se ne parlasse poi così tanto. Se se ne parlava, si parlava di eventi estremi, ma anche come adesso, molto spesso quando c'è un evento estremo, si parla magari di rischio idrogeologico e non si fanno i collegamenti al cambiamento climatico. Siamo passati adesso a una situazione in cui ci sembra che ci sia molto rumore rispetto al cambiamento climatico. Molto rumore dato dal fatto che il mercato che ha aperto, in un certo senso, la transizione energetica e climatica in generale, ha aperto molto al marketing green, quindi al fatto che molte aziende si possano reinventare o possano nascere per coprire delle fette di mercato verdi, alle situazioni di negazionismo lampante che adesso sembrano un po' indebolite, ma esistono e vedremo un esempio pratico, ha un sistema di procrastinazione climatica rappresentato in questa vignetta, per cui vedremo un altro paio di vignette tra qualche slide, per cui non si parla tanto di negazione del cambiamento climatico, ma si parla di situazioni in cui si cerca di spostare l'attenzione su altri argomenti in modo tale da rallentare quelle che sono le azioni ambiziose che invece servono rispetto alla crisi climatica. Quindi in questo caso spostare l'attenzione su quello che fanno gli altri stati in modo da avere una scusa per non agire noi stessi. Quindi, marketing verde, un esempio tra tutti, Plenitude, Società Benefit, che senza entrare necessariamente nel merito, però ovviamente è un chiaro esempio di come un'azienda fossile stia cercando di spostare l'attenzione verso una sua nuova anima che vuole essere più verde, quindi non più la fiamma, ma il sole, il colore è verde, non più giallo e nero. Insomma, una di quelle situazioni che ci troviamo davanti anche nei supermercati molto spesso rispetto a molti prodotti di consumo ordinario. Negazionismo pure semplice. questo è di una settimana fa un politico italiano che sosteneva che dato che l'espansione del ghiaccio artico è arrivata quest'anno a livelli più alti di vent'anni fa, il cambiamento climatico non esista. Ovviamente basta informarsi per dieci minuti per vedere come non sia tanto l'estensione quanto la qualità del ghiaccio, cioè il fatto che ci sia sempre più ghiaccio giovane e sempre meno ghiaccio antico per farci capire che è vero che magari questo è un anno positivo, ma in generale il trend non si è cambiato e quindi che negare il cambiamento sia oramai sostanzialmente infattibile. Insomma, il negazionismo puro è rimasto in pochi zoccoli duri non ancora diciamo convinti, ma di base per le persone che hanno degli interessi contro quella che è la transizione energetica, quella che è la comunicazione del cambiamento climatico o un'azione politica ambiziosa, allora si parla molto più spesso di procrastinazione climatica. Due temi qui molto importanti, uno, il fatto che siamo uomini sostanzialmente e la natura umana ci impedisce di collaborare tutti quanti per ridurre delle emissioni, l'altro che sottolinea quelli che sono i potenziali costi sociali della lotta al cambiamento climatico, che quindi sottolinea che i lavoratori, i membri più deboli della società avranno molto da perdere dalla transizione ecologica e per questo sostanzialmente l'azione climatica va rallentata, va anche ostacolata in alcuni casi. Molto spesso questo però è un pretesto. L'esempio tra tutti è il fatto che ad esempio spostare l'attenzione dai combustibili fossili a rinnovabile significa non poter garantire la sicurezza energetica ai paesi in via di sviluppo. Questo è ovviamente un'osservazione valida, però non significa che non bisogna dal nostro punto di vista in questo senso si tratta semplicemente di reindirizzare quella che è la transizione in modo da garantire i diritti umani e i diritti allo sviluppo delle singole persone. Ora, che cosa può trasmettere i due gradi stante quella che è la situazione attuale sul cambiamento climatico? La propria esperienza. Siamo qui da più o meno quattro anni ormai abbiamo fatto ovviamente qualche prova rispetto a quella che è la comunicazione climatica, abbiamo fatto anche degli errori e quindi abbiamo possiamo condividere quello che abbiamo imparato. Abbiamo anche qualche esempio pratico che guarderemo insieme e quello che vogliamo sottolineare per quella presentazione che adesso verrà subito dopo è che molti dei punti che tratteremo sono correlati tra loro. Quindi a voi potrà sembrare magari che qualche cosa sia più appropriato legato a un argomento piuttosto che un altro e può essere anche così a seconda del messaggio che si vuole veicolare dell'importanza che si vuole dare a un tema piuttosto che a un altro allora può essere giusto che un tipo di comunicazione si associ meglio a un punto che a un altro. Ora i due temi principali di cui parleremo sono il coinvolgimento quindi la creazione di un coinvolgimento del nostro pubblico e la credibilità. Prezzo se posso interromperti prima di con la presentazione mi è venuto in mente ti vorrei fare una domanda diciamo rispetto al discorso del coinvolgimento perché partecipando conoscendo un po' più da vicino ad esempio movimenti come Extinction Rebellion e Friday for Future all'apparenza potrebbero sembrare come movimenti diciamo equivalenti che portano avanti comunque le stesse istanze sicuramente magari da un punto di vista delle istanze sono molto simili però le modalità con cui lo fanno sono molto diverse e una cosa che mi aveva colpito ad esempio partecipando ad alcuni incontri di Extinction Rebellion è che loro sostengono il loro compito diciamo la loro mission non è quella di offrire delle soluzioni loro dicono il nostro compito è solamente quello di far svegliare le persone portare le persone a prendere a agire per richiedere appunto alla classe politica di prendere dei provvedimenti urgenti mentre al contrario i Friday for Future cercano di offrire anche delle possibili soluzioni a quelli che sono diciamo le conseguenze dei cambiamenti climatici leggendo poi rispetto al tema del coinvolgimento altri alcuni paper ho avuto modo di approfondire il tema appunto di quali sono le cause appunto di questa inazione di questa apatia diciamo da parte del pubblico tra le principali vengono riportate appunto la complessità del tema che comunque richiede una conoscenza di diversi afferenti diversi ambiti disciplinari per riuscire a spiegare determinati aspetti del cambiamento climatico mentre dall'altra vi sono anche aspetti più legati che alcuni psicologi chiamano climate denial ovvero la negazione non del fenomeno in sé ma la negazione appunto la non considerazione di questo fenomeno in quanto causa di ansia di paura comunque di emozioni negative da parte dell'individuo quindi volevo chiederti dopo questa breve premessa voi avete trovato una giusta tara per cercare appunto di coinvolgere le persone senza spaventarle cercando appunto anche magari di offrire quelle conoscenze e offrire diciamo il tema porre il tema senza che sia bisogno appunto di conoscenze molto dure molto approfondite rispetto al tema eh sì credo di sì poi Costanza ovviamente senti di libera di completare ma in generale credo eh che è anche quello che mostrerò più tardi eh una chiave importante sia effettivamente quella di creare una comunità cioè cercare di creare una base condivisa da cui poter costruire un'azione eh il cambiamento climatico è una tematica enorme che riguarda tutti gli ambiti della società non tutti sono ugualmente pronti a affrontarla nella maniera eh nella stessa maniera e eh allo stesso livello di diciamo eh impegno personale e per questo l'importante però è che tutti siano pronti a fare anche un solo passetto nella stessa direzione e anche rispetto alla comunicazione questo rimane il punto importante cioè l'importante essendo il tema così eh transdisciplinare così onnicomprensivo è che eh la comunicazione possa essere comunque inclusiva e non esclusiva quindi non debba necessariamente costruire dei nemici eh e dei degli alleati ma che possa chiedere a tutti di fare tutto quello che possono fare ecco quindi secondo me una chiave potrebbe essere potrebbe essere questa ecco sì anche io sottolineo l'importanza di della di essere comunità di essere una collettività perché come non esistono eh cause individuali del cambiamento climatico non è la singola persona che causa il cambiamento climatico non esistono nemmeno come dire soluzioni assolute a livello individuale cioè le soluzioni avvengono a livello a livello collettivo quindi capire che solo a livello di società in maniera collettiva possiamo effettivamente cambiare le cose è la chiave poi ovviamente ci saranno sempre persone che comunque inizialmente possono rifiutare possono controbattere possono anche essere abbastanza aggressive nel rispondere a una determinata informazione eccetera e è una cosa estremamente è una cosa legittima ognuno ha il diritto di ognuno ha il diritto di reagire come vuole fatto sta che ognuno ha anche il diritto di essere informato sul cambiamento climatico cioè questo è un tema estremamente importante cioè proprio l'accesso all'informazione perché tutti viviamo in questo mondo quindi tutti abbiamo il diritto di sapere che cosa sta succedendo a livello di crisi climatica quindi questo questo sì sottolineo anch'io appunto l'importanza di essere tutti insieme soprattutto di capire che le informazioni sulla crisi climatica per quanto possano essere dure da digerire è un nostro diritto avere accesso ad esse quindi in teoria è una cosa positiva non è una roba che ci viene imposta dall'alto ma è proprio una cosa che ci spetta di diritto grazie 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 costanza grazie lorenzo allora adesso possiamo passare alla parte sul coinvolgimento nel frattempo vi dico delle slide che mostrerò se avete qualsiasi domanda appunto o la fate attraverso la presentazione stessa o la fate attraverso zoom e alla fine di questa sezione avremo una breve q&a con le domande che avrete fatto nelle chat quindi non siete timidi allora il primo punto ovviamente per creare coinvolgimento è di stare sul pezzo nel senso di collegarsi a quelli che sono gli argomenti di attualità cercare di contestualizzare in una maniera interessante dei temi che altrimenti vengono percepiti come abbiamo detto come enormi come imponderabili in un certo senso quindi questi sono due dei prodotti che abbiamo pubblicato qualche tempo fa quello sui mondiali del Qatar e sull'impatto ambientale di un evento del genere e quello sul carburanti del perché sia importante parlarne e di qual è il collegamento con la crisi climatica ovviamente ora tra parentesi ho messo non a tutti i costi perché ovviamente trattare di attualità ha anche delle implicazioni e quindi ogni volta che si parla di un tema di attualità bisogna pensare bene nel momento in cui si vuole sì creare coinvolgimento ma anche mantenere la propria credibilità a capire come e fino a che punto si può trattare di un tema senza che questo sia controproducente e lo vedremo anche ora meglio in seguito posso aggiungere una cosa sullo stare sul pezzo appunto stare sul pezzo significa seguire le news seguire cosa succede però non concentrarsi sulla news solo quando è un trend topic faccio un esempio pratico le conferenze sul clima c'è sempre quei dieci giorni di novembre in cui abbiamo un'esplosione di news sulle cop però il vero segreto per poter comunicare effettivamente cosa succede alla cop è essere un po' informati tutto l'anno e andare un po' più in profondità perché poi può succedere che si diffondono informazioni che sono parzialmente vere o che non sono proprio vere sull'onda dell'entusiasmo del poco tempo per preparare per preparare magari una news o qualcosa sulla cop faccio un esempio molto pratico è capitato di leggere su testate giornalistiche per esempio che alla cop 27 non si erano presentati Cina India e Russia in realtà si erano presentati con tutta la delegazione di negoziatori non c'erano semplicemente i capi del governo però è una differenza cioè comunque è un messaggio però è molto differente tra la Cina non si presenta e Xi Jinping non si presenta perché poi ovviamente le reazioni del pubblico sono eh ma se la Cina cioè come nella vignetta che abbiamo visto prima se la Cina non fa questo allora perché noi dobbiamo impegnarci questo è un esempio pratico ogni tanto entrerò nelle nella presentazione per fare esempi pratici e aggiungere qualcosa quindi preparatevi quindi questo è il primo punto importante altro punto importante per creare coinvolgimento è sostanzialmente rendere potabili gli argomenti per questo ad esempio abbiamo parlato adesso di copp non tutti sanno che cosa vuol dire copp qualcuno potrà pensare alla copp e il supermercato eh in realtà la copp se ti interrompo al consorzio delle assolutamente infatti a seconda dei eh dei contesti le copp sono le conferenze delle parti ehm che discutono degli accordi internazionali sul clima e per questo ad esempio nel nell'ottica di rendere comprensibili alcuni argomenti eh due gradi ha sviluppato un glossario in cui eh fossero spiegati questi temi principali in modo che poi i lettori potessero approfondire magari le varie tematiche eh in articoli dedicati però una volta chiarite quelle che erano le diciamo le basi eh i personaggi fondamentali potremmo dire del della scena eh altro punto importante è produrre quello che le persone cercano in che senso questo? Beh adesso questi sono i dieci articoli più letti su due gradi sul sito di due gradi nel 2022 che vengono dalle ricerche online allora il grosso di questi articoli come vedete eh copre delle tematiche informative prima di tutto le auto elettriche sono sostenibili chi sono i migranti climatici un mondo classificato è un articolo che si occupa di eh vari tipi di plastica e qual è la correlazione tra plastica e cambiamento climatico eh il gas serra quali sono e come sono emessi che cosa sono le cop quindi una spiegazione un po' più estesa delle conferenze delle parti e il costo nascosto della carne questo è l'articolo introduttivo sugli impatti ambientali del dell'alimentazione eh animale eh dall'altra parte però questi sono i top tre articoli letti che vengono dal traffico dei social quindi principalmente da Instagram ma anche da Facebook principalmente e possiamo vedere che in quanto a natura degli articoli si parla di qualche cosa di un po' diverso siamo troppo ricchi per essere sostenibili il ruolo di Eni nella transizione ecologica il fascino per la fine del mondo questi sono di sicuro articoli meno informativi e un po' più di dibattito e un po' più politici potremmo dire quindi la gente cerca un certo tipo di articolo in base a quelle che sono ad esempio bisogni informativi o in base a quelli che sono eh gli argomenti di attualità eh argomenti di attualità come appunto il ruolo dell'Eni o eh quelle che sono le diseguaglianze sociali ed economiche e in che senso poi produrre quello che la gente che cerca nel senso di cercare di evitare o minimizzare la produzione di quello che noi crediamo che sia utile comunicare che magari ha senso trattare ma che forse il nostro pubblico non è davvero interessato a leggere o perché è un argomento troppo specifico o perché è un argomento poco interessante e quindi anche questo va tenuto a mente molto spesso con due gradi abbiamo anche prodotto degli articoli questo è un articolo ad esempio eh abbastanza specifici e tecnici da alcuni punti di vista questi articoli in alcuni casi sono utili in altri eh si rivelano anche un po' eh riempitivi potremmo dire e non necessariamente utili a fare sì che la divulgazione del clima sia chiara concisa e semplice per il nostro pubblico la bioeconomia e la gestione delle foreste europee è un argomento abbastanza di nicchia eh quindi non c'è un interesse dal pubblico generalista così approfondito rispetto a questo e forse invece che produrre questo articolo avrei potuto pensare di produrre un articolo che fosse sulle conseguenze del cambiamento climatico un articolo generalista che rispondesse a quelli che erano i bisogni del di chi cerca informazioni sul web legato a questo appunto è la questione dell'adattare i contenuti alle piattaforme e al pubblico diverse piattaforme vogliono diversi contenuti esempio importante qui di adattare alle piattaforme al pubblico è anche dato da quello che è il nostro pubblico questi sono i nostri lettori sui social su facebook possiamo vedere che abbiamo più donne che uomini 54 a 45 e abbiamo più o meno un 20 25% del nostro pubblico che è rappresentato dalla nostra fascia d'età potremmo dire cioè la fascia d'età dei fondatori su instagram questa distribuzione è ancora più accentuata perché non si parla di 20 25% si parla di un 48% del pubblico che è della nostra età questo è legato e ovviamente agli utilizzatori dei social network ma anche a quello che può essere magari il nostro linguaggio di comunicazione pur volendo essere un un'istituzione che si rivolge a un pubblico esteso è possibile che due gradi sia rimasta intrappolata in un certo senso anche all'interno di dinamiche per cui noi ci rivolgiamo alle persone della nostra età e quindi anche questa sarà una cosa da tenere in conto quando si tratta di creare coinvolgimento cioè di stare sempre attenti a non rimanere in una bolla e lo vedremo tra pochissimo in cui si comunica alle stesse persone o in cui non si comunica alle persone a cui vorremmo comunicare ad esempio qui la presenza di più donne che uomini come follower di due gradi può lasciare presupporre varie cose che le donne siano più interessate al cambiamento climatico che i due gradi basi la propria comunicazione in una maniera che attira di più le donne degli uomini insomma ci sono delle considerazioni sempre da tenere in conto anche per la produzione dei contenuti successivi se vogliamo che coinvolgere più uomini come strutturiamo la nostra comunicazione futura in modo che sia diciamo attrattiva per il pubblico maschile che potrebbe seguirci ora altro tema importante legato a questo è quello che apre una domanda intanto secondo voi da dove viene la maggior parte del traffico che arriva sul sito di due gradi due gradi è una piattaforma che appunto ha il sito ha i social media sostanzialmente e quindi la domanda importante per noi è secondo voi da dove viene il traffico quindi le visite sul sito chi legge la maggior parte degli articoli che abbiamo visto da instagram da tutti i social quindi instagram facebook linkedin o da google e dagli altri motori di ricerca allora per la maggior parte delle persone il grosso del traffico viene da instagram anche parzialmente da tutti i social la risposta giusta è da google e dagli altri motori di ricerca in che misura più o meno 4 a 1 e questo è un aspetto molto importante anche per noi è un aspetto che la prima volta che l'abbiamo visto ci ha abbastanza stupito perché perché sostanzialmente noi essendo principalmente presenti come attività giornaliere potremmo dire sui social abbiamo detto è possibile che tutte queste persone vengano solo da google e la verità è che sì perché perché sostanzialmente le persone ancora rispetto al cambiamento climatico cercano prima di tutto informazione io non so dove sbattere la testa rispetto a quelli che sono oppure avete un bravissimo SEO manager abbiamo anche abbiamo certamente un bravissimo SEO manager assolutamente però ecco di cambiamento climatico ora si parla molto quindi c'è molto rumore ma si sa ancora molto poco i social tra l'altro più che rilanciare in un certo senso i contenuti al sito tendono a tenere ovviamente gli user sul sito quindi tendono in realtà a non non rimandare molto spesso al nostro sito e se lo fanno come abbiamo visto dagli articoli principali lo fanno per quelli che sono gli argomenti con il più grosso dibattito quindi argomenti un po' più politici argomenti un po' più di scontro potremmo dire perché i social hanno una dinamica ovviamente completamente differente rispetto a quello che è il motore di ricerca standard sono molto più polarizzanti e quindi i contenuti polarizzanti tirano in più e sul fatto dei social che tendono a tenere user dentro faccio un esempio pratico nelle stories una story normale raggiunge un determinato tipo di persone nel momento in cui uno inserisce un link esterno che può essere un link a un articolo il reach crolla cioè proprio le persone raggiunte crollano quindi siamo schiavi dell'algoritmo di Instagram e altro sì che anche questo è un aspetto appunto da tenere sempre sempre in mente no quando si vuole fare un progetto di comunicazione cioè cercare di capire quali sono i limiti anche del format con cui comunico il grosso dei vostri progetti sono progetti partecipati però bisogna capire se questa partecipazione implica una sostanzialmente cessazione di partecipazione alla fine del progetto cosa che accade molto spesso in generale ovviamente non voglio parlare dei vostri progetti ma in generale quando si tratta di iniziative progetti finanziati molto spesso si fanno un certo numero di attività si organizzano degli incontri delle sessioni si crea una comunità il progetto finisce perché finisce il finanziamento muore tutto nel momento in cui il progetto finisce questo è un aspetto che va ovviamente tenuto in conto nel momento in cui si vuole costruire una comunicazione che sia non solo coerente ma che sia vivace una comunità deve poter proseguire diciamo il lavoro iniziato da un progetto e quindi anche questo è un aspetto da tenere in conto mi interrompo un attimo portando un esempio concreto di quello che stavi dicendo tu Lorenzo nel contesto dei progetti finanziati l'anno scorso ce n'è stato uno in particolare nato questo gruppo di giovani che potete cercare sui social su Instagram si chiama Gruppo Esausto ha partecipato ad una sfida delle idee organizzata da una delle organizzazioni LVA finanziate dal progetto e all'interno di questa giornata in cui a gruppi di 4-5 giovani erano portati a provare a sviluppare delle idee da realizzare poi con un budget con 3.000 euro all'interno diciamo di uno uno dei quartieri di Torino e l'idea vincitrice è stata quella di Gruppo Esausto che ha proposto come idea quella di installare dei raccoglitori di olio esausto in una circoscrizione di Torino e avviare supportare anche diciamo questa azione più pratica con una anche di divulgazione di awareness rispetto alla popolazione diciamo che abitava in quel contesto quindi è un esempio concreto di come una volta terminato il progetto da parte dell'organizzazione che è stata finanziata da Mindchanger questo gruppo di giovani se è attivato adeguatamente tramite un percorso fatto all'interno appunto del progetto poi continua a portare avanti diciamo la propria iniziativa autonomamente grazie molto interessante e adesso possiamo passare a un altro tema per cui mi serviranno di nuovo gli input da parte vostra quindi potete ritornare a slide adesso vorrei sapere da voi quali sono le parole o la parola che vi viene in mente se pensate al cambiamento climatico questo è legato a un tema che adesso tratteremo quindi potete menzionare un numero qualsiasi di parole che vi viene in mente quando pensate al cambiamento climatico e guarderemo insieme quelli che sono i risultati cominciano a spuntare ok ora quelle più ripetute in teoria si dovrebbero ingrandire ma vedo che c'è molta varietà ecco riscaldamento globale ecco è una delle domande il capitalismo che una volta spuntato non scompare tutto ruota attorno al capitalismo mi pare di vedere nelle nota forse che stiamo parlando con organizzazioni non governative comunque sono allora enti locali comunque enti locali allora giusto comunque da qui possiamo vedere insomma quelle che sono adesso le parole più ripetute sono capitalismo ansia siccità riscaldamento globale urgenza riscaldamento ovviamente ora questo perché cioè perché vi abbiamo chiesto questo input adesso vi lascio questi 40 secondi ma perché sostanzialmente uno degli aspetti chiave della comunicazione climatica è cercare di ricollegarsi a quello che ci comunica il nostro pubblico cioè trarre ispirazione dal pubblico nel momento in cui io faccio una domanda del genere qual è la prima cosa che mi viene in mente fare un articolo fare un post su quello che è la relazione tra il capitalismo e il cambiamento climatico quello che è la relazione tra la parola riscaldamento globale e il concetto del cambiamento climatico se sono la stessa cosa se sono concetti separati fare un articolo sul collegamento tra la siccità attuale e il cambiamento climatico quindi la l'idea è è proprio di dire traiamo ispirazione dal nostro pubblico il feedback che voi mi avete dato è il primo prodotto che possiamo utilizzare per produrre una comunicazione climatica che risponda a quelle che sono le esigenze del pubblico quindi ovviamente è facile dire quello che le persone cercano e non quello che vogliamo dire ma come raccogliamo quello che le persone cercano una struttura come quella che abbiamo visto banalissima può essere abbastanza per indirezzarci in una in una direzione giusta qui abbiamo l'esempio delle impronte di carbonio che abbiamo pubblicato che abbiamo prodotto come vedete le impronte di carbonio hanno come scopo descrivere qual è l'impatto climatico di determinati prodotti quindi abbiamo il parmigiano abbiamo i viaggi due richieste che ci erano arrivate erano le sigarette l'olio di palma ad esempio olio di palma che oramai entra a ogni piesso spinto all'interno del dibattito pubblico sul cibo però è interessante anche comprendere qual è l'impatto precisamente climatico dell'utilizzo di questo materiale un altro punto che possiamo sollevare e che forse è legato più allo stare sul pezzo è che come vedete qui abbiamo le scarpe della Lidl questo perché abbiamo prodotto un'impronta climatica nell'anno in cui credo un paio di anni fa sono uscite le scarpe della Lidl come durante il Black Friday se non erro e abbiamo fatto l'impronta del Black Friday usando questa come illustrazione quindi questo per dirvi che un po' abbiamo tratto ispirazione dal pubblico un po' abbiamo tratto l'ispirazione dall'attuale per trattare di un tema importante che era quello del consumo eccessivo di beni che si crea attraverso un evento come il Black Friday ora altro punto importante che abbiamo menzionato prima questa slide forse non è bellissima però comunica quello che è il concetto io credo fondamentale rispetto alla comunicazione del cambiamento climatico è che è necessario far scoppiare la bolla avete visto il nostro il nostro pubblico 25-34 anni una buona una buona parte possiamo dire al 25-55% praticamente del nostro pubblico è in quella fascia d'età è un pubblico tendenzialmente magari già interessato al cambiamento climatico è un pubblico già rispetto magari ad altre realtà di comunicazione del cambiamento climatico un po' più trasversale perché perché due gradi si propone prima di tutto come comunicazione istituzionale prima che come attivista possiamo dire climatico far scoppiare la bolla è necessario nel momento in cui si vuole parlare di cambiamento climatico cioè l'idea di due gradi è di arrivare al sessantenne al settantenne al cinquantenne che non sa che cosa qual è ad esempio l'impatto delle macchine elettriche si vuole informare cerca su google clicca sull'articolo non solo di arrivare alle generazioni che come noi o alle persone della nostra generazione che sono già sensibilizzate all'argomento quindi rispetto a questo questo viene questo grafico viene da un paper che andava ad analizzare come l'utilizzo di alcuni hashtag potesse cambiare il pubblico di riferimento di alcuni prodotti social l'hashtag climate change associato principalmente a un un individuo attivista con una visione del cambiamento climatico diciamo positiva nel senso dell'attivismo ambientale hashtag come AGW che sta per riscaldamento globale antropogenico che invece è un hashtag in cui c'è molto più dibattito in cui c'è una parte che è legata all'attivismo positivo c'è una parte di scettici una parte di ambiguità e quindi in base alle persone che noi vogliamo raggiungere dobbiamo imparare anche a utilizzare il linguaggio le i simboli possiamo dire le parole chiave per rompere questa bolla delle persone che continuano a essere interessate al cambiamento climatico ma in un certo senso seguono tutte le stesse pagine purtroppo non sono riuscito a fare un calcolo però quello che vorrei fare è capire ad esempio delle pagine che fanno cambiamento climatico lifegate due gradi altre organizzazioni quante condividono i follower per mostrare quanti diciamo follower in realtà sono sempre le stesse persone interessate al clima che finiscono all'interno di questa camera di eco e per cui sembra di fare cose utili ma in realtà si parla sempre tra noi stessi ecco quindi all'interno della comunicazione climatica anche semplicemente utilizzare un hashtag diverso ci può far arrivare a delle persone differenti e vedremo un esempio pratico anzi forse lo posso tirare fuori no lo vedremo nell'esercizio in realtà in uno degli esercizi che avremo insieme che cosa può significare cambiare il linguaggio per arrivare a un determinato tipo di pubblico poi scusate l'interruzione riguardo a questo mi piacerebbe poi anche ascoltare da Costanza che si occupa proprio della gestione della community quando si cerca di rompere questa bolla andando magari a pescare da un pubblico diverso che non condivide magari il tipo di narrazione che fa a due gradi o che è scettica proprio nei confronti appunto del cambiamento globale di tipo antropogenico quando si verifica questo come gestite quelle che tecnicamente vengono definite shitstorm passatemi il termine ovvero quando il pubblico di una determinata pagina che magari ha una posizione una visione completamente diversa e non condivide quello che dice un soggetto o un ente si riversa in massa sui canali di quel soggetto e inizia nei commenti a dire a improperi e ad insultare anche diciamo pesantemente il chi gestisce quella pagina quindi volevi chiedergli anche come gestite queste situazioni allora innanzitutto partiamo sempre dal presupposto che la shitstorm è sempre c'è sempre legittimo che una persona critichi o faccia critiche anche nel linguaggio più scurrile possibile quindi partiamo da quello capiamo un po' che dubbi hanno quelle persone perché magari succede che condividiamo la stessa posizione però usiamo linguaggi come dire molto molto differenti e quindi cerchiamo di trovare un punto di incontro e soprattutto di come dire fare un smontare tutti gli argomenti che ci vengono proposti e di rispondere in una maniera chiara in una maniera trasparente e portando ovviamente le prove i dati a cui su cui ci affidiamo per esempio c'è molta polarizzazione per esempio per quanto riguarda la quota di disuguaglianze nel mondo per quanto riguarda le emissioni e quindi spesso magari capitano commenti EMA Stato X l'India e la Cina che cosa fanno e quindi è ovvio che sono paesi che a livello assoluto emettono più di noi però poi ci sono anche altri dati altri numeri che comunque sottolinano la responsabilità di noi paese che appartiene al nord globale economicamente sviluppato però devo dire che in generale il nostro pubblico è sempre un pubblico che comunque non è un negazionista assoluto cioè che dice ma che state dicendo però ha una visione di crisi di crisi climatica di argomenti che toccano la crisi climatica quando avviene diciamo la shitstorm un po' ovviamente che si scontra ogni tanto con il tipo di contenuti che che produciamo dopodiché noi comunque abbiamo una linea editoriale abbastanza eterogenea e quindi e quindi e quindi tocchiamo tantissimi argomenti con cui magari le persone che ci criticano una volta la volta dopo sono d'accordo con noi grazie allora ora giusto per chiudere la narrazione del della creazione del coinvolgimento altra cosa importante è essendo il cambiamento climatico un tema enorme appunto include un sacco di altre problematiche problematiche prima di tutto sociali problematiche prima di tutto civili per cui è anche importante non escludere questi aspetti dalla dalla trattazione quando si parla di procrastinazione climatica ad esempio uno dei degli aspetti principali è quello del ineguaglianza sociale da quel punto di vista e questo va preso in considerazione perché dire non vogliamo più auto euro 6 significa sostanzialmente poi a Roma figuriamoci perché io sono di Roma significa che una grossa fetta della della popolazione non potrà permettersi di spostarsi in una situazione in cui i mezzi pubblici non diciamo non vanno benissimo ecco quindi è importante che la comunicazione climatica non sia limitata diciamo non abbia il paraocchi rispetto a quello che è necessario fare qui vedete degli argomenti che coinvolgono varie tematiche ma rispetto a questo punto proprio in questi giorni credo ieri o l'altro ieri Greta Thunberg si trovava in Norvegia mi pare a protestare contro l'installazione di un palo eolico e di un parco eolico nel territorio dei Sami che sono una popolazione indigena del della zona e quindi è stato per molti una situazione inusuale in cui Greta Thunberg protestava contro le rinnovabili ma proprio perché non diciamo risolvere il cambiamento climatico non significa risolverlo a tutti i costi significa farlo tenendo sempre in conto quelli che sono anche i diritti umani delle popolazioni eh indigene in questo caso quelli che sono i eh diritti all'autodeterminazione per esempio e è per questo che anche nella comunicazione è sempre necessario incorporare aspetti che altrimenti in ogni caso verranno di sicuro sollevati dai detrattori nel momento in cui vorrete fare un'iniziativa di comunicazione un'iniziativa partecipativa ci potrà essere la persona che dice eh ma questo non lo trattate e quindi è sempre meglio essere pronti a dire certo che lo trattiamo lo includiamo attraverso questo e questo aspetto eh per poter fare sì che eh anche gli scettici possano dire beh allora magari è interessante magari mi informo non necessariamente diventeranno magari parte del progetto però lo guarderanno con un occhio meno critico se posso fare anche un altro un altro esempio per esempio di ehm ambientalismo che però eh non si occupa delle disuguaglianze sociali pensiamo per esempio a tutti i processi di gentrificazione nelle città no? Dove eh abbiamo magari quartieri popolari che con la con l'argomento del ci facciamo un parco facciamo il verde facciamo il il grattacielo sostenibile eccetera sostanzialmente cacciano ehm migliaia di di persone di nuclei familiari che appartengono a eh a fasce della popolazione più 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 ai margini o comunque più eh più povere e questo ovviamente ehm a livello di cioè se vogliamo veramente parlare di eh sostenibilità ambientale è necessario eh è necessario includere includere tutti perché ehm appunto eh la la gentrificazione ma come anche un altro esempio sono eh spesso i parchi nazionali eh che hanno proprio una natura natura colonialista ehm non non tengono non tengono non tengono conto del tessuto sociale che già che già accade quindi è anche proprio necessario decostruire eh questa questa ottica proprio smontarla eh e ehm e anche ascoltare chi cioè non non ascoltare solo le voci come dire occidentali ma anche affidarsi a attivisti fonti giornalisti eccetera locali che ehm ovviamente ehm raccontano storie molto molto diverse rispetto rispetto a noi noi europei o comunque noi eh privilegiati non lo so eh eh però sì insomma guardare la tutto a trecentosessanta gradi e non solo dalla nostra lente possiamo dirlo privilegiati allora grazie adesso passiamo alla prima sessione di domande e risposte se avete qualche cosa di eh particolarmente diciamo scottante da chiederci eh potete farlo o nella chat di zoom oppure nel nelle finestre che si aprono nella presentazione una domanda è arrivata nella su a slide la mando in diretta vediamo se ecco funziona così ecco allora qual è stato se c'è stato il momento di svolta per voi un posto un articolo che è andato virale allora se c'è stato mi piace perché effettivamente rispetto a quelle che sono le aspirazioni di due gradi eh siamo sempre a cercare una svolta ulteriore ma in generale eh forse Costanza può rispondere meglio se dovessi pensare a uno di sicuro un posto che è andato molto bene quest'anno è quello sulle elezioni quindi sulla valutazione dei programmi elettorali eh rispetto a quelli che erano le necessità eh climatiche quindi abbiamo fatto un posto in realtà ve lo ve lo mostro già adesso perché è una parte del eh della questione sul costruire credibilità sostanzialmente nel nel posto sullo speciale elezioni abbiamo avuto mille e duecento like centosei commenti eh è un post che ha girato abbastanza nel senso che è arrivato molto fuori della nostra bolla anche perché eh è stato molto criticato ehm questo lo guarderemo in seguito però eh anche per dire che nel momento in cui i post escono fuori dalla bolla è molto facile che arrivino critiche anche abbastanza feroci ehm però sì questo è stato uno uno dei momenti forse più rilevati nell'ultimo anno eh di di dibattito ecco anche perché ci ha permesso uno di capire come potevamo comunicare in maniera più efficace magari con le persone che non seguono due gradi normalmente e due di capire che ci sono ancora molte domande a cui si cercano risposte su alcune tematiche per cui di questi 106 commenti posso già parlare magari di questo punto molti sono anche nostri in risposta a quelle che erano le critiche le domande che sono nate e sono state suscitate e perché l'idea di due gradi è quella di rispondere sempre eh ai commenti quando arrivano domande quando arrivano richieste di delucidazioni questo è per ovviamente chi pone la domanda o chi pone la critica ma ancora di più per tutte le persone e sui social soprattutto sono tantissime che leggono e non commentano ci sono tantissime persone diciamo l'audience silente in un certo senso che anche nel caso degli eventi veri eh magari cerca delle risposte anche per sé eh a alcune domande principali anche per sapere come poter rispondere non lo so ai propri genitori rispetto a quelli che sono eh la questione batterie autoelettriche eccetera eccetera però non farà la domanda per qualsiasi motivo e è proprio per queste persone che occorre essere molto presenti e questa presenza questa disponibilità contribuisce a ovviamente aumentare il senso di comunità attorno al cambiamento climatico ma anche affermare la credibilità di chi fa comunicazione perché sono persone che non rifugono il confronto una delle cose che a noi paga di più è ammettere quando sbagliamo questo è un fatto ironicamente ammettere quando magari siamo stati eh leggeri nella valutazione di alcune parole o nell'utilizzo di alcuni dati è quello che diciamo ci acquista i favori anche dei nostri detrattori ogni tanto e non c'è niente di male in questo non c'è niente di male nel dire che eh c'è ancora tanto lavoro da fare eh siamo incerti su alcuni punti e così via rispetto a questo allora faccio prima una breve premessa rispetto al discorso delle elezioni che mi avete raccontato Lorenzo mi ha raccontato appunto mentre facevamo le prove per il webinar c'è stato è capitato una vera e propria eh shitstorm in occasione del 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 commento diciamo dei programmi elettorali in merito appunto alle risposte diciamo energetiche delle politiche energetiche e sviluppate da diversi partiti c'è stata una molto famosa eh pagina con un omino blu di qua del quale appunto non farò il nome che ha indirizzato diciamo orde di di follower per eh sulle sui canali di di due gradi ma anche su altri canali è capitato per screditare un pochino diciamo quello che era stato il loro il loro lavoro perché a loro modo di vedere non non affrontava in maniera adeguata eh determinate politiche energetiche che hanno a che fare magari con il nucleare e a questo mi ricollego appunto alla domanda fatta da Sara Tetro che ci dice come vi ponete rispetto agli haters o ai negazionisti dal punto di vista della moderazione sui social media allora di base appunto cerchiamo cerchiamo sempre ovviamente di instaurare un confronto l'idea è che il confronto o l'apertura al confronto pagheranno se non nel breve di sicuro nel lungo periodo nel breve periodo ad esempio nel caso delle elezioni abbiamo cercato di spiegare come mai alcuni programmi erano sopra ad altri e nel caso energetico era perché ovviamente la questione della transizione del clima non si ferma alla fontana energetica deve prendere in conto anche un sacco di altri aspetti ambiente biodiversità diritti sociali e così via e quindi un programma deve essere onnicomprensivo per essere soddisfacente almeno secondo quella che era la nostra valutazione e ovviamente poi le persone saranno più o meno disposte ad ascoltare molto spesso quando vengono a commentare in massa non si tratta davvero di cercare una risposta si tratta ogni tanto anche di fare un po' di mettere l'ansia possiamo dire ecco a chi fa comunicazione del clima la verità è che però rispondere non rispondere paga sempre perché anche se di quelle dieci persone che poi non guarderanno più la pagina o il sito o quello che deve essere se una dirà però sai che c'è hanno risposto punto per punto magari non sono d'accordo però sono state lì a metterci sì questo pagherà questo pagherà nel momento in cui ad esempio facciamo un evento in presenza e arriva una persona e ci fa delle domande o parla di negazionismo noi magari non siamo in grado di rispondere punto su punto ma comunque ci mostriamo disponibili a condividere le informazioni a parlarne insieme le altre persone comunque lo apprezzano è questo che alla fine aiuta la comunicazione a essere efficace cioè non è solo il messaggio di per sé non è solo la veicolazione del messaggio ma è anche il seguito del messaggio quindi la cura di quello che questo messaggio causa in termini di reazione e poi se posso aggiungere una cosa la cosa positiva di rispondere sui social è che ovviamente non ti legge solo la persona che ti ha criticato ma ti leggono migliaia di altre persone soprattutto nel caso del post sulle elezioni quindi magari il dubbio che possono aver avuto alcune persone posto che comunque un sacco di persone che ci hanno commentato poi alla fine abbiamo avuto come dire un punto di incontro nel momento in cui spieghi non è che ce l'abbiamo personalmente con il nucleare ma magari un programma vuole il nucleare però poi continua a dare i suoi usidi ai combustibili fossili ovviamente non potrà stare al primo posto quindi ovviamente un punto di incontro spesso si trova però ovviamente tante altre persone leggono e quindi tante altre persone appunto assistono a questo dibattito indifferita e quindi in un certo modo capiscono anche le nostre argomentazioni e magari acquisiscono anche loro argomentazioni se magari in futuro dovranno parlare con la zia o con gli amici di un determinato argomento posto che comunque noi siamo sempre promuoviamo sempre lo spirito critico e così via quindi quindi si più o meno ci poniamo così nel senso ogni persona è legittimata a fare commenti e a e a a esporre i propri dubbi le proprie domande le proprie perplessità e poi uno uno risponde portando portando quello che ha quindi i dati le evidenze ma anche fare in modo che siano cose comprensibili e accessibili ok nel frattempo altre due domande ne manderei un'altra poi se siete d'accordo procediamo e le recuperiamo alla fine va bene? sì magari diciamo magari vado vado prima nell'altra se per te va bene e poi prendiamo le domande dopo semplicemente perché così ci regoliamo forse meglio con i tempi perfetto comunque grazie delle domande di sicuro gli risponderemo non vogliamo metterle in secondo piano ma vogliamo anche condividere con noi quello che è effettivamente la nostra esperienza in modo che se avete altre domande le possiate fare costruire credibilità questo è il secondo focus come si costruisce credibilità prima di tutto utilizzando le fonti giuste cioè uno dei dei punti principali che nello sviluppo di due gradi abbiamo cercato di mantenere è l'utilizzo delle fonti primarie se i dati esistono avendone ovviamente la possibilità sempre andare sul sito dell'IPCC che è il pannello intergovern non lo so tradurre in italiano sul cambiamento climatico le Nazioni Unite l'Agenzia Internazionale per l'Energia la FAO e così via perché è importante questo? perché ovviamente ci permette di dare una sensazione di solidità molto maggiore a quello che vogliamo dire esempio pratico Caospiracy documentario che forse alcuni di voi hanno visto documentario fondamentale per la nascita di un dibattito su quello che è l'impatto ambientale della carne perché ha avuto anche così tanta risonanza perché si basava su dei dati effettivi che venivano da un report della FAO per cui poi la discussione si è subito innalzata al è vero non è vero è vero perché lo dice la FAO è vero perché lo dice la FAO ma come sono stati utilizzati questi dati però il centro del messaggio è stato che effettivamente c'era una questione da dover trattare perché? perché non era solo il documentario che lo diceva perché era un'organizzazione internazionale i cui risultati sono stati resi potabili accessibili attraenti per il grande pubblico attraverso il documentario altri altri punti fondamentali non serve non sempre serve giocare la partita nel senso che qui avete due titoli eh differenti in uno si è più oggettivi in uno si è un po' meno oggettivi non sempre per comunicare efficacemente un'idea serve suscitare una reazione o collegare magari un articolo a un'emozione lo vedremo anche tra pochissimo questo perché? perché in base al pubblico ad esempio si può avere un una certa reazione a una comunicazione più o meno emozionale gli uomini quella che è la ricerca attuale tendono a rifuggire una comunicazione basata sulle emozioni e a cercare una comunicazione più fattuale ad esempio quindi bisogna anche capire in base al pubblico a quella che è la propria ehm volontà di comunicazione come posizionarsi in modo da fare sì che eh quello che vogliamo comunicare non sia necessariamente sempre emozionale un po' ripetitivo eh in questo senso ehm altro punto non giocare la partita è informare senza rincorrere l'attimo abbiamo detto a stai sul pezzo prima per creare coinvolgimento sul rincorrere l'attimo c'è stata enorme discussione su quello che era il nucleare ehm nel nel momento della delle elezioni ad esempio in quel caso noi abbiamo deciso di non pubblicare un articolo a stretto giro sul nucleare per evitare che la polarizzazione che esisteva si calcificasse in una serie di posizioni non non costruttive quindi in un finto dialogo che in realtà era solo l'affermazione continua di quelle che sono le proprie posizioni e abbiamo abbiamo pubblicato qualche tempo fa eh un articolo introduttivo su quella che è l'energia atomica sapendo che chi si vuole informare adesso dato che il tema è rientrato nell'ambito pubblico allora avrà bisogno di partire dall'inizio che cos'è l'energia nucleare come funziona quali sono i rischi quali sono i potenziali aspetti positivi a questo proposito eh per quell'articolo abbiamo ricevuto anche tanti complimenti di gente cioè di ingegneri nucleari cioè di ingegneri energetici cioè gente che ehm si occupa proprio di queste cose quindi ehm siamo abbastanza fieri del dell'aver trovato la quadra ecco perché è un tema molto delicato sui social poi altro altro tema fondamentale che avevamo già menzionato usare il pre banking cioè nel momento in cui sappiamo che verranno le domande scomode cerchiamo di rispondere a queste domande direttamente mentre facciamo comunicazione cioè io faccio una presentazione sul cambiamento climatico negli anni arriverà qualcuno che dice beh sì però se allarghi la visione invece che parlare degli ultimi duecento anni parli degli ultimi diecimila abbiamo avuto aeree glaciali eccetera eccetera qual è il modo migliore di risolvere la questione è inserire nella presentazione direttamente una risposta a queste detrazioni per non trovarsi anche impreparati magari rispetto a una domanda del genere quindi pensare prima che cosa mi possono chiedere che mi può che può mettere in difficoltà la mia presentazione non aspettare di essere pronti alla risposta perché perché il debunking funziona meno del pre-banking cioè dare l'informazione fin da subito è molto più convincente che rispondere all'input che proviene da una critica da quel punto di vista così è utile anche per coloro che leggono solamente i titoli esatto sì ora l'ultimo punto no il penultimo punto beh l'altro l'abbiamo già visto che è quello sull'engagement della community è quello appunto delle emozioni comunicazione climatica di solito si lega a stretto giro a una comunicazione emozionale cioè la nostra casa sta bruciando cioè abbiamo poco tempo per agire io abito a Roma sono vicino al ministero che adesso è della sovranità alimentare e c'è l'orologio con la scadenza del tempo che manca per agire sulla crisi climatica la paura non funziona chi ha fatto comunicazione climatica chi ha studiato la comunicazione climatica ci dice che improntare la comunicazione sul oh mio Dio moriremo tutti nel lungo termine non aiuta perché perché non moriamo nel senso che i discorsi sul collasso del dei ghiacciai o sulla morte del del pianeta entro il fanno rischiare di trovarci ad esempio adesso tra nel 2030 in cui il clima per un motivo o per l'altro non è cambiato in maniera così estrema come ce lo potevamo aspettare e le persone che dicono beh non è successo niente sarà stata una delle solite truffe sostanzialmente quindi da quel punto di vista ci sono alcune emozioni quindi la paura la rabbia contro ad esempio l'inazione in un senso o nell'altro che anche se possono aiutare avere i click ad esempio nell'immediato non aiutano per la comunicazione di lungo termine l'esempio di Costanza di prima sulla mancata partecipazione di Russia India e Cina è l'esempio lampante uno legge il titolo perché tanto legge solo il titolo di un articolo del genere dice ah questi non partecipano si indigna mette i like magari clicca sull'articolo non legge poi l'informazione nel lungo termine qual è l'atteggiamento normale beh ma quelli non hanno fatto niente l'ultima informazione che ho rispetto a questo è che loro non hanno fatto nulla e quindi questo è negativo alcune informazioni alcune emozioni possono funzionare in maniera costruttiva la preoccupazione che è diversa dalla paura può funzionare nel momento in cui noi guardiamo a quello che può essere ad esempio dove comprerò la casa per evitare di ritrovarmi con 45 gradi eh che non saprò non potrò neanche stare dentro casa eh perché farà troppo caldo eh dove posso fare sì che i miei figli crescano in modo che non debbano eh trovarsi con l'acqua che verrà razionata ad esempio cioè queste sono invece emozioni che possono se gestite bene aprire anche a un'azione a un interesse prima di tutto rispetto al cambiamento climatico ma anche a un'azione a uno uno stimolo positivo ancora di più ovviamente la speranza a cui una preoccupazione deve essere sempre associata perché ovviamente la preoccupazione non serve a nulla se non si ha la percezione di poter cambiare le cose ovviamente un conto è vendere una casa eh non lo so in Sicilia dove hanno fatto io 50 gradi eh l'anno scorso e comprarla in Toscana magari dove si sta meglio un conto è poter agire dal punto di vista politico ecco tutte le emozioni però vanno inquadrate bene per evitare reazioni negative un esempio eh speranza rispetto alla risoluzione del clima potrebbe portarci a dire beh se c'è una soluzione la troverà Elon Musk eh ci sarà una soluzione tecnologica ad esempio l'inquinamento del mare sarà risolto dal ehm da quella ditta che sta raccogliendo eh i rifiuti e l'isolato di plastica quindi non dobbiamo effettivamente fare niente il sistema è perfetto così com'è basta aspettare e quella anche è una cosa rischiosa ovviamente ehm quindi bisogna bisogna stare attenti alla comunicazione emozionale di sicuro quello che abbiamo già detto è la creazione di una comunità di una sensazione di partecipazione condivisa è forse la cosa più efficace per comunicare il clima in modo non solo da informare ma di aprire a una possibile azione nel futuro l'ultimo punto è quello della gestione della comunità che si può creare appunto perché questo costruisce credibilità e rafforza una sensazione di partecipazione e in questo senso anche l'idea di Costanza senti di libero ovviamente evitare aneddoti troppo specifici cioè un conto ovviamente è costruire una base di dialogo con l'altra persona un conto è dire vedi sono a Bormio non c'è neve è il cambiamento climatico perché l'anno prossimo magari fa la stagione più nevosa degli ultimi 50 anni e il negazionismo ci risponderà sono a Bormio oggi e il cambiamento climatico non esiste sì diciamo che gli aneddoti vanno bene come gancio cioè come magari per introdurre un determinato argomento però soprattutto quando si tratta per esempio di ripensare per esempio i nostri stili di vita quindi mi riferisco per esempio a tutti quei progetti che vogliono diffondere consapevolezza eccetera non bisogna cadere nell'errore di pensare che siccome magari tu riesci ad andare in bici o a non comprare carne e così via non significa che tutti sono nelle stesse condizioni di farlo per esempio andare in bici in linea teorica in una città come Milano si può fare una città in pianura e via discorrendo però magari c'è gente che non si può permettere di vivere nel centro e quindi deve stare nell'interland e quindi come fai con la bici a fare e magari il lavoro sta da un'altra parte non ci sono magari le infrastrutture non ci sono le b e non ci sono le piste ciclabili o un altro esempio ancora il non comprare il diventare vegetariani è molto più facile cambiare la propria dieta quando si è magari single e quando si vive da soli è magari più complesso quando si ha una famiglia da gestire o si lavora tutto il giorno o magari si ha la vita da pendolari e così via quindi capire che la propria vita la propria la propria esperienza non è il benchmark insomma il metro di paragone con cui poi con cui poi appunto suggeri cioè con cui poi diffondere consapevolezza che non significa che tutti i nostri stili di vita sono sostenibili anzi bisogna anche bisogna anche diffondere l'idea che è possibile un mondo in cui tutti noi abbiamo uno stile di vita sostenibile dove mangiamo meno carne dove i trasporti sono differenti e via dicendo però non bisogna partire dalla propria esperienza personale ma da altri altri tipi di punti di partenza grazie Costi e ora possiamo passare magari alle domande e risposte eh prima di andare a qualche esempio pratico in modo anche che non vi addormentiate prima di passare alle domande che ci sono volevo ricollegarmi a questo ultimo esempio fatto da Costanza appunto citando un aneddoto personale cosa che voi avete detto di non fare io lo faccio subito però serve a spiegare un pochino questo fenomeno legato un po' alla responsabilità collettiva responsabilità individuale nel combattere i cambiamenti cambiamenti climatici e parlando con degli amici tempo fa mi era capitato appunto di discutere stavamo pensando di organizzare questo viaggio all'estero e un mio amico dice no io ho deciso da qualche anno di non prendere aerei perché voglio limitare la mia impronta fatto sai questo amico dopo eravamo fuori è andato in bagno a fare la doccia è stato sotto la doccia un'ora quindi consumando acqua calda acqua così e io ho detto ma guarda io magari prendo l'aereo per andare a fare un viaggio però poi faccio la doccia di cinque minuti questo per per spiegare per dire cosa che ognuno di noi comunque ci sono delle azioni che nella quotidianità magari pesano di meno abbracciare per far fronte diciamo ai cambiamenti climatici quindi essere più sostenibili possibile però la somma di queste azioni diciamo non ci porta ad avere una soluzione unica quindi ad avere un comportamento magari individuale che calzi e vada bene a tutte le persone del mondo quindi va bene essere consapevoli cercare di limitare il proprio impatto il più possibile però non ci sono soluzioni che se prese da una persona possono risolvere questo problema ed è uno dei temi fondamentali che stiamo cercando anche di affrontare con Mindchanger per far riflettere appunto sulla questione di cos'è responsabilità collettiva e cos'è responsabilità individuale rispetto appunto ai cambiamenti climatici ora arrivati a questo punto possiamo proseguire con le domande ce n'è una che è arrivata qui e che la quale darei la priorità perché si ricollega un po' al discorso che abbiamo affrontato per ultimo e che dice Vittoria Vittoria Garrone ci dice c'è una preferenza riguardo alla comunicazione emozionale per le diverse generazioni piattaforme? Allora abbiamo una slide diciamo che secondo me può servire e è una di due slide che abbiamo preparato apposta per questa presentazione ricercando un po' su quella che è la comunicazione del clima verso i giovani è uscito fuori diciamo una metodologia basata sulle tre S in inglese SSR in italiano che è il cambiamento climatico come semplice serio e risolvibile semplice in che senso? semplice nel senso che ai ragazzi basta spiegare le cose non serve necessariamente trattare diciamo fare giri di parole bisogna si può partire dal fatto che il cambiamento climatico parte dal surriscaldamento del pianeta causato dai raggi solari dal mantenere diciamo dal fatto che i gas serra mantengono l'energia sprigionata dai raggi solari all'interno del pianeta e sono in grado ovviamente di seguire questa trattazione quindi non bisogna non bisogna neanche semplificare il problema si tratta di parlarne in maniera chiara e diretta serio dal punto di vista del della gravità del problema è un problema che esiste è un problema che riguarda tutti è un problema che diciamo ha un ha una conseguenza per ognuna delle nostre vite ma correlato a questo è fondamentale parlarne in maniera risolvibile quindi l'emozione probabilmente maggiore che mi sentirei di proporre è quella della speranza quella della speranza perché perché ad esempio le generazioni attuali molto spesso si trovano calate in un sistema che gli parla del collasso climatico intorno a loro se si informano se cominciano a informarsi possono ovviamente diventare magari parte dei Fridays for Future se hanno una certa tendenza a essere attivi ma possono anche leggere di tutto quello che sta andando in un certo senso allo scatafascio e dirsi non ha senso che io faccia qualsiasi cosa non avrò un futuro quindi non sapere neanche da dove da dove cominciare in questo senso la speranza è sempre necessaria perché anche per quello che c'è scritto nella frase noi non siamo gli ultimi ad agire sul cambiamento climatico ci sarà in un certo senso sempre tempo per cercare di migliorare la situazione per salvare una vita in più per modificare la traiettoria per quanto questa possa essere critica e quindi dare una scadenza dare una visione negativa delle cose a chi è più giovane e non ha potere per cambiarle in quel momento significa condannarlo da quel punto di vista quindi le emozioni migliori secondo noi sono quelle della speranza la comunità i giovani tendono a farla automaticamente in un certo senso perché si trovano all'interno di contesti di gruppo normalmente e quindi si tratta di attivare questi contesti di gruppo magari dicendogli che è possibile fare qualche cosa il problema c'è esiste magari ne sono già consapevoli adesso si può fare qualche cosa a riguardo perfetto continuerei Lorenzo con una domanda che è arrivata su Aslide se la vuoi mandare in diretta mi chiedono sostanzialmente la visualizziamo quali ruoli sono necessari per gestire la comunicazione di un progetto immaginandolo a partire da un gruppo di giovani volontari che studiano lavorano allora questa è una domanda molto pertinente perché i due gradi è in ristrutturazione al momento e per cui i ruoli legati alla gestione della comunicazione appunto adesso li stiamo anche noi definendo in una maniera adeguata do certamente la parola a Costanza perché credo che sia la persona giusta per parlare meglio della questione sì allora attualmente la parte di comunicazione è formata noi siamo un team abbastanza numeroso però necessario da due persone che si occupano io e Fabiola della linea editoriale dei contenuti e della scrittura dei contenuti e soprattutto della strategia digitale quindi capire quali strumenti si adattano di più per le varie piattaforme poi è essenziale avere una persona che si occupa di tutti i materiali grafici noi abbiamo due persone Viola e Dada che sono rispettivamente una grafica e una illustratrice quindi si occupano rispettivamente della parte di infografiche e di illustrazioni sia sul sito sia sui social poi abbiamo una persona che si occupa del sito quindi del CEO degli articoli e anche di un programma di membership ovviamente se avete un progetto che sta solo per esempio sui social media e non sul sito questa figura non è necessaria e poi abbiamo delle persone che si occupano Francesca e Chiara che rispettivamente si occupano della redazione cioè della scrittura dei contenuti e del management cioè il social media management quindi la gestione di Instagram e così via e fino a poco tempo fa ero io che mi occupavo proprio di Instagram quindi se devo rispondere proprio all'osso all'osso sostanzialmente c'è bisogno di una persona che si occupi dei social media che scriva cioè un'altra persona magari che scriva poi in base alle risorse al tempo che ci volete mettere e una persona che faccia i contenuti grafici ovviamente se c'è una persona che lo fa di lavoro come da noi è molto meglio e quindi quindi sì il fatto di essere volontari gioca un bel ruolo a livello di risorse però è anche è anche positivo perché consente molta indipendenza diciamo ok grazie Costanza collegherei la domanda che vedete la seconda domanda che vi dato come riuscite a tenere in piedi una redazione totalmente dislocata in giro per l'Europa con un'altra domanda arrivata su Zoom da uno spettatore anonimo che ci chiede come vi finanziate allora questo è correlato alla fine diciamo degli argomenti prima degli esercizi possiamo dire e cioè al fatto che credibilità e coinvolgimento li possiamo anche legare all'anima stessa dell'iniziativa non solo ai contenuti cioè che nel momento in cui volete comunicare in maniera efficace prestate anche attenzione a quello che è il vostro progetto stesso non a semplicemente il messaggio che state veicolando Due Gradi è nato come come progetto completamente volontario cioè noi siamo sempre stati volontari rimaniamo ancora volontari abbiamo i nostri lavori diciamo da parte e questo ci aiuta a creare credibilità perché sostanzialmente siamo indipendenti e anche coinvolgimento perché ovviamente in un certo senso tutti sanno che nel momento in cui hanno qualche cosa da dire possono provare a parlarne con Due Gradi e possono forse pensare di diventare parte del progetto e collegato sempre a coinvolgimento e credibilità è anche il fatto che adesso abbiamo lanciato una campagna di abbonamenti che non è tanto per autosostenerci perché quello è ancora legato alla volontarietà quanto per poter garantire che magari riusciamo ad arrivare un pizzico più in là rispetto a quello che è l'ideazione di nuove idee la copertura di nuove spese per alcuni progetti che vogliamo realizzare e così via Steady è sostanzialmente un sistema di abbonamenti mensili che permette a noi di avere un'entrata fissa e permette anche a chi fa gli abbonamenti di essere un pizzico più vicino a due gradi dal punto di vista della ricezione di contenuti dedicati o anche nel momento in cui ovviamente si passa a un contributo un pizzico più alto del entrare a far parte di quella che è una redazione partecipativa in cui si propongono gli argomenti da trattare quindi certamente noi rimaniamo sempre in ascolto rispetto a quelle che sono le volontà di chi ci segue nel momento in cui abbiamo un meccanismo di finanziamento diretto possiamo anche fare sì che le persone che ci seguono diciamo un po' più strettamente abbiano anche un canale forse privilegiato possiamo dire per proporre un argomento poi non si tratta di proporlo in una determinata maniera si tratta solo di decidere insieme che cosa vogliamo parlare e come riusciamo a tenere in piedi la relazione dislocata in tutta Europa attraverso chiamate messaggi siamo i due gradi è a Roma Verona Padova Parigi Bruxelles Torino in Scozia è in un sacco di paesi sostanzialmente quello che ci tiene in piedi è anche il fatto che sia un progetto volontario che quindi ci sia una grande voglia di voler partecipare a un'idea che percepiamo come non solo utile ma necessaria e poi comunque io per esempio vivo a Bruxelles come altre persone ci vediamo anche al di fuori di due gradi questo aiuta molto a cementificare i rapporti inoltre ci vediamo anche qualche volta all'anno fisicamente comunque quando capitiamo nelle città ci vediamo fisicamente poi magari non necessariamente parliamo di due gradi però in un qualche modo cerchiamo di superare la distanza così ok grazie c'è un'altra domanda ma se siete d'accordo continuerei con la parte della presentazione poi all'ultimo raccogliamo le altre sì volendo adesso possiamo passare magari alle applicazioni pratiche giusto per abbiamo più o meno un quarto d'ora che ci manca in cui possiamo guardare insieme a come voi comunichereste magari alcuni messaggi climatici e a quelle che sono i nostri input in questo senso che speriamo che vi possano essere utili ecco allora il primo il primo esempio e qui vi chiedo ovviamente magari di rientrare sulla presentazione quindi ricollegarvi alla presentazione se volete rimetto qui anche il codice di guerra immaginiamo di dover parlare a Giovanni che ha 64 anni di cui non conosciamo il lavoro e che è una persona che si informa principalmente dai social e dagli amici quindi dai post che gli capitano in home oppure quando va al bar quando fa sport magari esce con la famiglia ecco abita in Piemonte e non ha figli quindi dobbiamo strutturare un messaggio di comunicazione del clima a Giovanni quali sono le risposte le domande principali che ci dobbiamo porre queste sono alcune delle domande che ci potrebbero essere utili Giovanni è un uomo utilizziamo un framing più emozionale e più fattuale abbiamo visto che in base per gli uomini un framing emozionale potrebbe funzionare di meno quindi potremmo volerci concentrare su un framing più fattuale ha 64 anni e non ha figli penserà più al presente o più al futuro abita in Piemonte sta avendo un'esperienza diretta del cambiamento climatico forse sì forse no dipende abbiamo forse un caso in mente al momento si informa dai social e dagli amici si fida delle fonti di informazioni ufficiali o solo degli intimi quindi come strutturiamo una comunicazione che gli possa arrivare come strutturiamo una comunicazione che possa fargli dire effettivamente questa maniera di leggerla è interessante quindi adesso potete scrivere quello che vi viene in mente rispetto a come voi inquadrereste un messaggio sul cambiamento climatico a Giovanni che ha 64 anni viene dal Piemonte non ha figli di cui non conosciamo il lavoro e poi possiamo andare insieme attraverso quelle che sono le vostre idee che sono un messaggio cominciano a arrivare quindi posso Facebook svela qualche bufala allora abbiamo qualche minuto per raccogliere le vostre idee e poi possiamo andare anche al voto nel senso che da voi stessi può arrivare quella che è l'opinione rispetto a quelle che sono le proposte degli altri potete pensare che delle idee siano più funzionali di altre quindi potete votare quelle che preferite posto su Facebook svela qualche bufala un servizio televisivo in prima serata all'interno di un programma non specialistico mettere in evidenza i benefici immediati magari anche economici di uno stile di vita sostenibile facendo leva sull'importanza di prendere atto del fenomeno ma fornendo spunti pratici per aiutarlo a ridurre il suo impatto aggancio nostalgia ma attenti a non cadere nel primo era tutto meglio hai visto il po in secca e le montagne senza neve spot pubblicitario cercherei di fargli capire che siamo tutti coinvolti che è una questione che riguarda il qui e ora utilizzerei un bel titolo diretto senza linguaggio tecnico leggere la comunicazione degli effetti locali della crisi climatica ne parlerei in prospettiva fattuale focalizzandoci sul presente o futuro a breve termine ad esempio sul tema della siccità che vivendo in Piemonte sicuramente andrà a toccarlo utilizzerei Facebook solo chi è adulto e vive oggi ha il potere di lasciare un segno negativo positivo che sia cosa vuole fare Giovanni attraverso qualcosa che lo tocchi personalmente legame al territorio presumendo che ne abbia o conseguenze sui suoi potenziali nipoti eccetera newsletter su quello che sta succedendo ok sceglierei un tema e un episodio aneddoto notizia a lui vicino che racconti il cambiamento climatico in maniera fattuale con esempi pratici che possa ricondurre alla sua esperienza personale e dare adesso un nuovo significato tono secco non emozionale non allarmistico ma realistico un post Facebook comunicazione chiara e basata su dati di fonte autorevoli prevalentemente post Facebook spiegando come il cc potrebbe colpire direttamente anche lui risposta alle principali fake news comunicazione chiara con dati oggettivi e evidenziando il confronto di un'impronta ecologica negativa e positiva allora chiudo ma per gli altri che stanno scrivendo mi dispiace ma è solo per permetterci di andare a quello che è il voto quindi ora potete mettere like alle idee che vi convincono di più credo che ce ne siano tre o cinque a testa nel frattempo vi posso anche dare se aspetto magari un minutino su quello che sono le vostre preferenze così non non le dirigo ehm quelli che sono i nostri input rispetto a a questo a questo punto eh i benefici immediati magari anche economici di uno stile vita di di vita sostenibile possono essere un ottimo aggancio quando si parla di qualcuno che magari non è vicino al cambiamento climatico che pensa che potrebbe pensare più al presente che non al futuro non avendo figli magari eh sono a me che cosa me ne torna ehm molto spesso la mancanza di interesse anche verso il cambiamento climatico implica una sostanziale paura anche di quelli che sono i costi di cambiare alcune abitudini il cambiamento climatico ci è arrivato contro all'interno di una dinamica di eccezionalità che è stata promossa nel sistema consumistico attuale che faceva sì che le persone si sentissero perfettamente in potere di guidare la propria vita e le proprie scelte il cambiamento climatico riduce nuovamente questo questa ampiezza di scelte che sembrava dover essere determinata solo dai soldi fino ad oggi se hai soldi puoi fare tutto e adesso invece si apre diciamo un momento in cui non è più così chiaro quindi collegarsi ai soldi per dire guarda che ad esempio mangiare meno carne e questo è uno dei punti che abbiamo sollevato nel eh in un'altra slide che purtroppo non ho mostrato ma magari vi mostro adesso è eh che sostanzialmente parlare dei co-benefici dei cambiamenti che si possono fare per il cambiamento climatico soprattutto la salute quindi camminare di più guidare di meno eh cercare di mangiare meno carne per evitare gli effetti negativi sulla salute che causa il consumo di carne possono essere l'aggancio giusto per fare sì che le persone facciano la scelta giusta poi ovviamente dipende da quello che è il nostro obiettivo il nostro obiettivo è che Giovanni cambi stile di vita eh qualsiasi cosa pensi del cambiamento climatico o è che si informi rispetto al cambiamento climatico in maniera migliore allora qui abbiamo ok mettere in evidenza benefici immediati poi hai visto il po' in secche le montagne senza neve spot pubblicitario questo può essere molto pertinente per eh la comunicazione attenzione però perché si ricollega anche a quello che ha detto Costanza e cioè l'esperienza aneddotica quest'anno c'è la siccità magari l'anno prossimo sarà un anno straordinario da quel punto di vista rispetto alle precipitazioni e in questo senso adesso vi posso anche fare vedere un articolo di giornale del post che è uscito in questi giorni ehm vediamo vediamo un momento eh ok questo è l'articolo la siccità del nord Italia sembra legata al cambiamento climatico un articolo che eh Costanza mi ha mandato qualche giorno fa e che entrambi abbiamo guardato con occhio un po' critico perché abbiamo detto i legami tra eventi estremi e cambiamento climatico eh sono abbastanza chiari soprattutto quando si tratta di siccità scrivere un articolo in questi termini magari lascia ancora spasso il dubbio e non è un gran bene da questo punto di vista però è anche importante un articolo del genere perché potrebbe non riferirsi a noi come pubblico a noi Lorenzo a noi Costanza persone già consapevoli di questi collegamenti ma a persone magari anche un po' scettiche che leggendo un articolo di questo tipo che quindi non ha necessariamente non sta dicendo guarda che è legato non sta martellando parlando del cambiamento climatico dicendo che bisogna fare qualche cosa ma dice sembra che ci sia un legame un nuovo studio ha accertato un collegamento può raggiungere delle nuove persone quindi se diciamo l'aneddoto è una scusa per parlare in maniera più generica allora sì altrimenti ovviamente rischia di sollevare le problematiche che abbiamo menzionato su quello che è un aneddoto contrario tipo da me ha piovuto tantissimo quindi io devo pensare che il cambiamento climatico non esista perché poi quando si tratta di cambiamento climatico lo si associa a un innalzamento delle temperature quindi ogni volta che c'è ad esempio una tormenta di neve particolare o l'estensione del ghiaccio artico più alta di sempre allora si dice beh ma non ci dovrebbe essere un riscaldamento ovviamente nella complessità del cambiamento climatico ci sono anche queste situazioni però è davvero difficile poi spiegarle a partire dal caso specifico e poi a questo proposito ehm sul titolo del post effettivamente nell'articolo c'era proprio scritto ehm ormai si sa che gli eventi estremi sono legati alla crisi climatica però è ancora cioè non è banale legare il singolo evento quindi per esempio la siccità in nord Italia o le bufere di neve negli Stati Uniti che ci sono adesso alla crisi climatica però è stato anche interessante vedere le reazioni di chi di chi ha commentato perché la reazione del pubblico che comunque è un pubblico abbastanza come dire sul pezzo quello del post per quanto riguarda questo tipo di questioni erano tipo tutti eh grazie ma dai e quindi magari ehm c'è stato un po' un target ehm ehm che si è un po' staccato da 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 quello voluto ecco quindi tocca stare un po' attenti a questo. Sì altra altro esempio secondo me molto interessante è questo solo che adulto e vive oggi al potere di lasciare un segno negativo positivo che sia cosa vuole fare Giovanni? Io credo che questa sia una una comunicazione abbastanza interessante considerata l'età di Giovanni proprio per quello che dicevamo cioè il fatto che magari Giovanni viene da un contesto in cui ehm l'idea del segno sul mondo è legata all'azione personale eh molto chiara insomma e quindi in questo post che in teoria dice che solo Giovanni ha il potere di cambiare il mondo magari è quello che Giovanni ha bisogno di sentirsi dire cioè che Giovanni ha potere che Giovanni quindi può fare cose e altri non possono e ironicamente per quanto possa non sembrare diciamo costruttivo forse però può arrivare al a Giovanni in maniera più efficace di un altro post eh magari più fattuale ecco eh gli altri esempi secondo me sono validissimi il servizio telesivo all'interno di un programma non specialistico assolutamente ovviamente in questi programmi poi è difficile secondo me parlarne in maniera adeguata perché molto spesso se avete visto questi programmi di solito quando si parla delle tematiche solo in contesti di dibattito in modo da creare più confusione che non informazione eh però sarebbe di sicuro un un metodo eh utile e il posto su Facebook assolutamente si informa su Facebook quindi ovviamente il modo per arrivargli in maniera più diretta è un posto su Facebook poi che questo possa essere eh legato alle fonti ufficiali magari è meno opportuno proprio perché magari informandosi della famiglia tende a essere un po' scettico di un post magari dell'Unione Europea rispetto al cambiamento climatico sarebbe più comodo dirgli appunto lo vedi che eh intorno a casa sua il prato non ha più erba eh cose così. Lorenzo scusate se ti interrompo eh che punto siamo nella presentazione perché sono quasi le cinque certo. Certo. E allora possiamo magari fare un altro esempio se volete in un minutino e poi finire in base a quella che è la rispettiva. Sì ci sono altre due domande. Va bene allora una faccio un ultimo esempio poi ovviamente vi condivideremo anche questa presentazione perché ci sono materiali che speriamo possono essere utili allora sì possiamo possiamo magari finire su questo eh questa è è una domanda aperta eh come possiamo rispondere a qualcuno che ci dice ancora con questa storia perché adesso se ne parla molto apparentemente io non ho nel tempo né la voglia di occuparmene quindi date quelle che sono le vostre opinioni su le possibili modalità di comunicazione rispetto a eh questo possibile commento questa opinione ecco immaginiamo anche di essere magari a un banchetto eh in giro per la città a dare fare comunicazione sul cambiamento climatico e e incrociare una persona che che dice no guarda io a me non frega niente proprio eh come possiamo provare ecco un po' indicativo come approccio eh dal punto di vista della comunicazione forse potrebbe non essere il migliore eh però è è una possibilità ecco eh quindi il modo in cui il cambiamento climatico compisce e colpisce influenza negativamente la vita di questa persona è ciò che hanno detto dieci anni fa questione di senso civico e responsabilità civile TikTok per i giovanissimi qual è la nostra storia? Il tuo aiuto con il mio possono fare qualcosa? Ok eh ah o eh purtroppo sì lo ok le si è bloccato in un minuto e mezzo però se avete qualche altro eh feedback ok perché esplorare le motivazioni? Ah vi avete un altro minutino magari nel frattempo vi posso già dire che esplorare le motivazioni è effettivamente forse la cosa più efficace da questo punto di vista perché perché stiamo parlando con una persona che non è disposta a interessarsi perché non è disposta a interessarsi in generale e per quello che abbiamo detto ad esempio eh perché non essendo abbastanza informata teme quello che il cambiamento potrebbe portare cioè io vengo a sapere il cambiamento climatico e a quel punto non ho più una scusa per non comportarmi di conseguenza non ho l'energia per farlo quindi a queste persone bisogna cercare di parlare partendo da quelli che sono i benefici ad esempio come abbiamo menzionato guarda che in realtà ti conviene installare la pompa di calore perché nel lungo termine ti costa di meno ad esempio eh in realtà ti conviene occuparti di questo perché significa che quando sarai eh più vecchio avrai un parco vicino casa in cui eh poterti riposare oppure rischierai vabbè magari non lo si menziona apertamente però insomma c'è ovviamente anche un rischio minore di morte rispetto a quelli che sono gli eventi estremi ecco eh capisco se ne parla troppo senza mai informare davvero partire dai benefici individuali eh e collettivi assolutamente quindi possibili agganci il dubbio è legittimo e giusto eh e quindi bisogna bisogna basarsi su questo dubbio per fare comunicazione eh altri altri punti è magari non occuparci direttamente dell'argomento cambiamento climatico ma provare a coinvolgere le persone tramite modalità di comunicazione differenti l'arte visiva la poesia eh e aspettare che il messaggio magari passi in maniera indiretta altro modo che hanno visto dalle ricerche può essere funzionale è appunto come esplorare le motivazioni e chiedere aiuto rispetto a degli argomenti che si possono correlare ho bisogno di comprare una nuova macchina tu che cosa ne pensi e quindi partire da questo argomento per cercare di eh dare importanza all'altra persona sentire che la sua opinione viene ascoltata e a quel punto instaurare un dialogo a partire da questa eh sensazione di intimità che serve a superare il muro di gomma che viene posto nel momento in cui gli si dice ma tu lo sai che c'è il cambiamento climatico perché uno può dire voglio cambiare la macchina eh tu mi dai un input e poi lì magari gli si parte a dire però pensavo anche magari di comprare un'elettrica si parla delle macchine elettriche si risponde alle domande e in questo modo si è fatto entrare con il piede nella porta una comunicazione un un messaggio su quella che è la gestione del eh della transizione energetica da questo punto di vista eh quindi questo rimane importante e questa è anche una cosa che funziona per i giovanissimi l'altra tendenza può essere il fatto che sono giovane cresco eh in un sistema diciamo disperato rispetto al cambiamento climatico non mi va di di occuparmene tanto in ogni caso non avrò la pensione non avrò un futuro eh e tutto il resto quindi che me ne frega a me eh da quel punto di vista ritorniamo all'argomento del bisogna dare speranza creare comunicazione e potergli dire eh è vero il problema è serio ma non è risolvibile ogni sforzo in più può fare la differenza allora questo diciamo ci sono altri esercizi ovviamente purtroppo siamo andati un po' lunghi mi dispiace per questo eh però appunto vi condivideremo la presentazione in ogni caso una cosa molto importante per noi è che tutti i vostri riscontri sulla presentazione altre domande che potreste avere anche delle critiche rispetto alle tematiche eh che ci li possiate fare per venire in modo che possiamo migliorare o rispondere ai vostri dubbi e cercare anche di supportarvi ulteriormente nei prossimi giorni. Grazie Lorenzo eh colgo l'occasione per rispetto a ciò che hai detto per ricordare che ovviamente eh al termine della presentazione domani invierò il consueto questionario di valutazione del webinar che poi ovviamente condividerò condividerò anche con voi. Direi che siamo quasi eh giunti al termine della di del webinar ne approfitterei per leggere le altre due domande che sono per la slide e mh la prima è molto secca chiede eh Anonymous quale piattaforme suggerireste di usare come unico strumento di comunicazione per un progetto? Facciamo vedere anche in sovrimpressione così. Intanto metto nella chat i nostri contatti qualora ci volessero scrivere o avessero feedback. ecco. Ok scusatemi eh ehm eccoci qua sì scusate non non la trovavo. Ehm allora quale piattaforma unico strumento di comunicazione per un progetto? Oh è una domanda complessa. Dipende eh oserei dire dipende davvero dal pubblico nel senso che se dovessi basarmi sul pubblico ad esempio uno dei miei la mia idea della comunicazione climatica è di farla arrivare alle persone a cui serve di più. Quindi fascia d'età quarantacinque settanta sostanzialmente. Quindi io userai Facebook. Ehm per altre fasce d'età può essere Instagram, può essere TikTok. Se avete, se non è in base alle fasce d'età potete anche guardare il posizionamento magari in base al livello di educazione, in base ai livelli economici. Sono cose abbastanza eh facili da ritrovare online rispetto alle eh all'utilizzo dei social e quindi partirei da queste informazioni. Ehm non ho una risposta univoca nel senso che noi per quella che è la nostra esperienza abbiamo visto che il sito rimane la piattaforma più stabile da questo punto di vista rispetto a alle viste. Semplicemente perché il sito rimane eh il più comodo in quanto a sistematizzazione delle informazioni. I social sono fatti diciamo per lo scrolling eh per la maggior parte e mentre sul sito è facile ritrovare del materiale andare a cercare per categorie e così via. Sì e poi mi preme sottolineare intuitivamente uno dice Instagram effettivamente è il social più attivo che genera più in che genera in maniera più facile interazioni però bisogna sempre ricordare che Instagram è un social dove c'è bisogno di avere un account e non tutti hanno Instagram eh ehm e soprattutto è un social che nasce per vendere prodotti non è un social che nasce per informare a differenza magari di una di un sito web e quindi da questo punto di vista eh si hanno le mani molto più legate poi è certo è ovvio che eh permette di raggiungere in maniera molto più semplice eh le persone e personalmente anch'io ho trovato un sacco di progetti interessanti proprio tramite Instagram però non non usate le interazioni che eh o comunque la facilità di raggiungere persone l'immediatezza come unico parametro perché Instagram non è un social accessibile come sembra eh leggiamo l'ultima domanda che ciao quali con Joe eh quali consigli potreste dare a chi vuole lavorare nel mondo della comunicazione in particolare ONG quindi con con le ONG a questa io do la parola a costanza magari prima di tutto sì eh allora io personalmente non so cosa intendi per il mondo della comunicazione perché anche io non ci ho mai lavorato direttamente perché mi occupo di di altro nella vita reale diciamo al di là di due gradi però secondo me una cosa che ho notato è che viene sempre viene sempre valorizzata l'interdisciplinarità nel senso che eh se tu vuoi lavorare in comunicazione magari in ambito ambientale o in ambito di diritti umani sociali civili che comunque si ha una conoscenza a partire dal tuo background ehm una conoscenza complementare viene sempre viene sempre ehm valorizzata e soprattutto deve avere dei valori come dire si allineano con l'ONG io effettivamente ho lavorato un anno eh in una ONG ma mh mi occupavo di cose molto tecniche ehm e e quindi sì una una persona che si occupa di comunicazione se comunque hai un se magari il tuo background è di comunicazione se hai un se approfondisci gli aspetti tecnici per esempio del cambiamento climatico eh viene valorizzato molto al contrario se invece hai un aspetto un pochino più tecnico eh però ti interessa comunque a occuparti della dell'aspetto più comunicativo comunque avere un'idea di come come funziona come funziona la comunicazione e la scrittura eh i vari i vari canali eh il tipo di ONG di cui ti occupi il pubblico e così via quello aiuta molto comunque puoi sempre scrivere privatamente posso aiutare un po' di più il tempo è poco perfetto allora io vi ringrazio infinitamente per averci eh per essere stati con noi diciamo in queste due ore soprattutto per averci eh raccontato appunto la vostra esperienza e mi auguro eh diciamo possa servire alle a a tutti ciò a tutti 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 chi ci ha ascoltato da casa non solo i progetti finanziati nel contesto di Mindchanger ma anche chi solo emplicemente per curiosità o per passione ha deciso di spendere queste due ore con noi e ricordo che lunedì prossimo comunicazione di servizio ci sarà un altro webinar dedicato alla comunicazione delle migrazioni avremo con noi Dario Bosio e Mariangela Ciriello che è rappresentante di Enjim e vi arriverà comunque la comunicazione per iscrivervi a questo a quest'altro webinar della prossima settimana e niente grazie mille di tutto e per qualsiasi cosa scriveteci per mail vi condivideremo comunque i contatti di eventualmente di costanza di due gradi non quelli personali quelli per fare domande e condivideremo anche con voi la presentazione grazie mille a tutti ciao ciao è stato un piacere enorme grazie anche da parte nostra appunto rimaniamo in contatto se volete e siamo sempre disponibili se avete qualsiasi altra domanda e grazie Pasquale grazie Giulia anche per l'organizzazione di dell'evento e speriamo di rivederci presto grazie mille ciao ciao ciao